Ben rientrati in studio per la pagina sportiva, iniziamo con il calcio. Ieri si è giocato all'eccellenza, Mattia Andriolo si dice com'è andata. Sarà un finale col botto, quello del campionato di eccellenza. Grande spettacolo perché se settimana scorsa, domenica, avevamo visto la fuga decisiva dell'Olginatese, questa settimana tutto è o quasi tornato in equilibrio perché l'Olginatese è andata a pareggiare 2-2 in casa del Gavirate, un pareggio che forse è dipeso un po' dal braccino dei Brianzoli, dall'altra invece è tornata al successo. La Varesina che batte 2-0 il Luciano Manara grazie alle reti di Deodato e Cate che consentono alla squadra di Spilli di tornare lì attaccata a tre punti, ma come sappiamo con una partita in più. Risultati quindi fondamentali che appunto ci parlano di un campionato che vivremo fino all'ultimo secondo, poi il pareggio del Milano City 1-1 con il base 96, il successo della Vergetese per 3-2 contro la Sestese, una partita veramente combattuta. Infine il 4-3 del Ponte Lambrese sulla Castanese, una sfortunata Castanese che in vantaggio di due reti non è riuscita a portare a casa il primo successo di questa stagione. E allora un occhio naturalmente alla classifica, da tenere d'occhio i punti dello schieramento, in particolar modo davanti, abbiamo detto, c'è ancora il Brianzol Ginatesi a 22 punti che però ha una partita in più e che sconterà solamente l'ultima giornata. Quindi la prossima sarà l'ultima della propria stagione, Varesina 19, Ardor Lazzate e Vergetese A14, 11 Milano City, 9 per Gavirate Ponte Lambrese e base 96, 8 Sestese, 7 Luciano Manara e 2 Castanese. Sarà quindi più che mai decisiva la decima giornata penultima di questa stagione con la partitissima innanzitutto dell'Olginatese che ospiterà l'Ardor Lazzate che ha riposato in questo 2 giugno di campionato, poi la Varesina che in casa ospiterà il Ponte Lambrese e per chiudere base 96, Gavirate, Castanese, Milano City e Sestese, Luciano Manara, il riposo, la Vergetese. Ci si gioca tutto, 6 punti, 2 giornate, tutto da scrivere ma chi lo sa chi porterà a casa questa benedetta serie D. Equitazione e bocce insieme in una manifestazione dedicata a ragazzi con disabilità. Accade a Somma Lombardo, ne parliamo nel nostro Bocce Forum, ecco un'anticipazione. Torna a Somma Lombardo il meeting internazionale Brughiera di Malpensa, a farla da padrona il dressage e le bocce con la petanque, disciplina che ha il pregio di essere praticata ovunque senza troppe difficoltà. Gli spazi aperti nei boschi sommesi adatti al passaggio dei cavalli diventano così perfetti per il lancio di piccole bocce metalliche che sono gli arnesi del mestiere di questa branca dello sport boccistico. L'appuntamento è dal 24 al 27 giugno al Reading Club di Somma Lombardo. Sono impegnato come bederese ma a un altro livello organizzativo è il mondo dei disabili con il Reading Club di Somma Lombardo che organizza la quindicesima edizione del meeting internazionale di dressage per disabili e noi per la terza volta dovremmo riuscire con Paolino Bistoletti e Anna Sculli di Varese con l'AC di organizzare questa osmosi con la petanque, quindi una gara di petanque organizzata sui campi di mitrofi adiacenti a dove si svolgono le competizioni di dressage. Questo dovrebbe avere luogo tra il 24 e il 27 di giugno. Non so dire ancora quante nazioni parteciperanno ma è una manifestazione molto importante anche perché sarà una manifestazione forse l'ultima in assoluto che permetterà la selezione per le Paralimpiadi di Tokyo. Anche con la pagina sportiva abbiamo terminato. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento insieme a Rete55. Grazie, arrivederci.